Partiranno a breve i lavori di restyling dell'ex chiesa di Santa Maria del Tricale, la chiesa più antica di Chieti. Vice sindaco, che cosa accadrà dopo questo restyling? Torna alla fruizione e alla fruibilità, uno spazio importante, un luogo di cultura autorevolissimo della nostra città, finalmente un progetto a medio e lungo termine per ridare vita a questo luogo molto pregevole della nostra città. I costi a carico della sovrintendenza ai beni archeologici delle province di Chieti Pescara, l'intervento ammonta circa le 150 mila euro. C'è un partenariato pubblico-privato con una cooperativa che poi si occuperà della gestione degli spazi. Partirà a breve questo restyling dell'ex chiesa di Santa Maria del Tricale, uno degli edifici storici più antichi della città di Chieti? Certamente sì, uno dei più importanti, uno di quelli che credo è nel cuore della città di Chieti e dei cittadini di Chieti da sempre. Tuttavia è un bene sottoutilizzato, che non sempre visitabile, non sempre accoglie attività, come invece abbiamo cercato di fare seppur sporadicamente negli anni passati. E quindi è venuto il momento di adeguarci e fare un progetto di più ampio respiro complessivo che riguarda sia lavori di rifunzionalizzazione, quindi lavori che riguardino l'interno riscaldamento, lavori sull'acustica che oggi non è accettabile per fare performance o rappresentazioni, lavori sull'illuminazione interna e esterna, rivalorizzare questo giardino che è un anfiteatro naturale. Ma accanto a questi lavori, che sarebbero inutili se questo luogo non vivesse sempre, abbiamo contemporaneamente lavorato sulla partnership con un socio privato, diciamo come la legge ci consente, abbiamo trovato e incontrato una cooperativa che si chiama Cooperativa Mirare, giovani che intendono porre mano a un progetto di attività culturali stabili e con i quali abbiamo stretto una convenzione di 10 anni per poter lavorare su attività culturali rivolte a tutti i target di pubblici possibili, ma soprattutto cercare di garantire un'apertura e una fruizione più ampia possibile a questo immobile e quindi a questo giardino che possiamo definire un giardino urbano, un giardino che deve diventare un punto di riferimento per la comunità.